Prepara le tue cose. Perché? Che vuoi fare? Andiamo in Francia, dai! Perché mai dovremo andare in Francia? Ci sarà la guerra qui, ci uccideranno tutti, partiamo! Figlio mio, se tu pensi che io sia viva, allora ti sbagli. Sono morta da tempo. Che ci vengano a uccidere. Ascoltami. Ascoltami bene. Abdelkader è finito in prigione. Lui è solo in Francia e noi dobbiamo aiutarlo. E Messaud? Ci raggiungerà. È un militare, lo faranno entrare. Verrà in Francia? Verrà in Francia. Se Dio vuole, torneremo qui. Torneremo tutti insieme. Nella nostra terra. Nel nostro paese. Non possiamo restare in questa topaia. Devi sapere una cosa, figliolo. Se sono sicura di ritrovare tutti i miei adorati figli, io ti seguirò ovunque tu vada. Che Dio ti ascolti. Che Dio ti ascolti. Ok.